bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi la puntata di oggi sarà molto breve ma sarà molto sugosa molto molto intensa ragazzi perché stavo lavorando completamente ad un altro video quando mi arriva ragazzi dai miei sotterfugi del web un nuovo codice promo ragazzi un nuovo codice promozionale da inserire e porca miseria ragazzi porca e che c'è da straparsi i capelli c'è da straparsi perché è un codice uno dei più sugosi che potreste mai ricevere su what the hen prima di dirvi il codice ragazzi io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo la serie di what the hen che porto ogni giorno alle 13 ragazzi scrivetemelo qua nei commenti se vorreste che continuassi con what the hen o se volete vedere anche qualcos'altro vi ricordo anche che di pomeriggio dalle 17 alle 18 c'è sempre l'uscita di un nuovo video e questa sera e tutte le sere alle 21 la live di clash royale super pollicione in su ragazzi per la live iscrivetevi iscrivetevi al canale per non perdere mai nessun aggiornamento ragazzi ancora qualche istante prima facciamocelo bramare facciamocelo bramare ragazzi 6473 trofei per il mio profilo principale siamo in arena 10 servono 8.999 trofei per arrivare all'arena 11 ragazzi quindi una sfida che si prospetta mastodontica nella mappa non andiamo così bene come vedete no non si vede il mio coso siamo a livello 278 non so perché non si veda il mio pistolotto eccolo qua siamo a livello 278 ragazzi e mancano solo due livelli per raggiungere la possibilità di trovare un baule sugoso quando vedete sopra lì il la gallina vuol dire che c'è un vortice viola che ci darà un baule interessante va bene ragazzi vi ho già strappato troppo tempo e quindi il codice ragazzi luigi promo 2 ragazzi luigi promo 2 vi regalerà 3 carte epiche ragazzi e 250 gemme beh meglio di così ragazzi non sapevo che cosa proporvi vi ricordo che domani ragazzi ci sarà un video molto molto interessante su what then mi ci sono voluti mi ci vorranno un paio di giorni per crearlo quindi ragazzi non perdete l'occasione di andare a sarà molto utile per tutti molto molto interessante io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato anche questo mio video noi ci vediamo alla prossima ciao